Ciao, ciao, buongiorno, come state? Spero stiate tutti bene qui oggi le temperature si sono di nuovamente abbassate come vedete ho la maglietta manica lunga perché fa freschino, soprattutto alla mattina allora, oggi innanzitutto volevo ringraziarvi tantissimo per tutti gli auguri che ho ricevuto veramente, veramente tantissimi e ho risposto qui, in maniera singola perché non erano proprio così tanti sugli altri social ho risposto in maniera accumulativa perché erano veramente più di 500 messaggi e non sarei riuscita a rispondere a tutti grazie anche agli auguri che avete fatto alla Lucy che è diventata maggiorenne ed è uguale a prima, come tutti i maggiorenni come quando lo siamo diventati noi e quindi settimana intensa nonostante Paolo fosse in isolamento siamo comunque riusciti a festeggiare a distanza e nulla adesso speriamo che quando domani farà il tampone risulterà negativo in modo che potrà poi festeggiare con le sue amiche qui a casa insomma, poveretta e anche dopo fare una festa con i nonni e con gli zii e niente, oggi ero indecisa volevo impostare un video sui miei preferiti ma poi volevo parlarvi anche dei prodotti alla vitamina C che ho introdotto che sono i miei preferiti a questo punto ho detto vabbè, facciamo un tutt'uno sono tutti prodotti alla vitamina C sono tutti ottimi per quello che mi riguarda io ho trovato un giovamento pazzesco sulla mia pelle in queste 3-4 settimane che le sto usando alcuni li ho introdotti prima altri li ho introdotti dopo e devo dire che la mia pelle è notevolmente notevolmente cambiata io soffro di una cuperose leggera non fortissima ma che soprattutto quando c'è il sole d'estate quando si cammina sotto il sole praticamente dopo un quarto d'ora che cammino sembra che io sia andata ai Caraibi a prendere il sole perché sono viola in faccia e devo dire che con questi prodotti non mi è più successo non mi è più successo la grana della pelle si è notevolmente ridotta la pelle è molto più luminosa ma anche molto più uniforme cioè proprio ha un colorito sano certo io non sono di afana di carnagione e non lo sarò mai il mio colore è comunque un colore di pelle chiaro ma che si abbronza facilmente io raramente mi scotto quando mi abbronzo e devo dire che con tutti questi prodotti utilizzati con costanza io ho trovato un visibile miglioramento del mio tono di pelle anche della produzione di sebo molto molto meno nonostante faccia caldo quindi per me sulla mia pelle sono stati ottimi come vi ricordo spesso io sono soltanto una consumatrice quindi quello che io vi dico di questi prodotti è perché l'ho sperimentato sulla mia pelle che è una pelle mista grassa che è una pelle di una donna di 52 anni quindi comunque una pelle agé se vogliamo vogliamo definirla così in un momento particolare della vita che è la menopausa quindi con sudorazioni eccessive con cambi di temperatura frequenti molto sensibile ecco tenete conto che quello che io vi dico è perché l'ho provato sulla mia pelle quindi non è detto che quello che se voi doveste provare un prodotto di quelli che ho provato io e che vi dico che per me è fantastico magari a voi non va bene oppure non piace cioè è tutto veramente molto molto soggettivo cioè ci tengo a dire questa cosa perché è ovvio che non tutti i prodotti possono andare bene per tutti le pelli non sono tutti uguali noi siamo degli esseri unici e distinti per fortuna nulla allora io vi dico cosa ho introdotto nella mia skin care mattutina e anche serale non è composta solo da questi prodotti ce ne sono degli altri e vi farò poi prossimamente un video sulla skin care che faccio alla mattina e sulla skin care che faccio alla sera questi però sono buona parte dei prodotti alla vitamina C che ho introdotto e con i quali io mi sono trovata veramente veramente bene ma partiamo perché se no continuo a parlare e non vi faccio vedere nulla allora la prima cosa che vorrei precisare è che la vitamina C è fotosensibile e non fotosensibilizzante cosa vuol dire che la vitamina C quando poi viene formulata nei vari prodotti è fotosensibile vuol dire che se viene a contatto con i raggi diretti del sole si deteriora cioè perde la sua efficacia e il prodotto non è più valido come prima ed è per quello che tantissimi prodotti che contengono un'alta percentuale di vitamina C sono ovviamente oscurati cioè o hanno una plastica completamente oscurante oppure hanno un un come si dice un packaging che è scuro e non permette ai raggi solari di di venire a contatto quello che vi consiglio è di non tenere i prodotti alla vitamina C magari sulla mensola dove batte il sole tutto il giorno cercare comunque di metterli o in un armadietto o in una posizione in cui sono un po' più riparati dai raggi del sole che soprattutto d'estate sono molto forti e possono deteriorare comunque il prodotto che c'è all'interno di ogni boggettino allora ho letto anche alcune come si dice tipologie di pensiero la vitamina C a che cosa si può abbinare la posso mettere alla mattina la posso mettere alla sera io vi dico la mia esperienza io la vitamina C la uso sia alla mattina che alla sera soprattutto in questo periodo perché soprattutto d'estate abbiamo più bisogno di vitamina C la pelle sicuramente è anche più provata dall'inverno dalla primavera che sta finendo in primavera ed estate si rinnova con i vari prodotti con esfolianti con creme con detergenti e io ho provato a usarla sia alla mattina che alla sera e l'ho provata ad usare anche abbinata per esempio alla niacinamide di mia spontanea volontà ho provato perché l'abbinamento niacinamide e vitamina C per alcuni versi potrebbe essere irritante perché sono due comunque due attivi diciamo che non so come dire potrebbero risultare irritanti potrebbero darvi fastidio darvi dei pruriti creare delle dermatiti quindi il mio consiglio è se li volete provare come ho fatto io sotto mia responsabilità io li ho provati a me non ha fatto nessun tipo di problema anche perché l'ho utilizzato in percentuali molto basse la vitamina C quando l'ho diciamo mescolata con la niacinamide altrimenti ci sono dei prodotti in commercio che sono già dosati hanno già le percentuali giuste e quindi se usate quei prodotti lì non c'è nessun tipo di problema per la vostra pelle però come sempre io dico si prova se si vede che magari non so si mette un tipo di siero che è anche esfoliante e lo si mette tutti i giorni ci dà fastidio proviamo a metterlo prima due volte a settimana poi tre volte a settimana cioè in base a come la nostra pelle reagisce io nonostante abbia una pelle abbastanza sensibile e in questo periodo molto molto variabile devo dire che come dice la mia mamma ho una pelle sciat nel senso che da noi si dice così quando tu hai una pelle molto resistente il sciat da noi è il topo hai una pelle del topo che resiste a tutto vive nella sporcizia vicino alle fogne insomma io non sono una che vive vicino alle fogne nella sporcizia però la mia pelle mi sono accorta che comunque è molto sensibile ma non delicata e quindi ho provato e tutti questi prodotti mi hanno fatto bene ecco io volevo non sono un'esperta non sono una cosmetologa ci sono nel web ci sono sui libri tantissime informazioni quindi quello che io vi dico l'ho trovato sul web ma non voglio neanche andare troppo in profondità perché si sa che quello che viene scritto sul web può essere scritto sia da un dermatologo sia da un cosmetologo ma anche da qualsiasi persona che vuole dare delle informazioni quindi secondo me ecco appunto informiamoci e informatevi nelle fonti giuste perché dopo magari se succede qualche cosa andiamo a dire a Cazio, Tizio e Cazio ho detto Cazio a Tizio, Caio e Sempronio sapevo io che facevo queste figure che è colpa loro invece poi magari appunto dipende da come abbiamo abbinato tutti i componenti che ci sono nella nostra nella nostra skin care allora ma partiamo io alla mattina utilizzo la fantastica 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 acqua micellare alla vitamina C della Garnier mi trovo non bene di più benissimo la sto utilizzando da tanto ma devo dire che come vedete non sono neanche a metà allora perché utilizzo l'acqua micellare anche se non sono truccata perché come primo passaggio della mattina dopo che siamo andati a letto con la maschera notturna con tutti i sieri con tutte le le nostre meravigliose misture sulla faccia la mattina comunque ho bisogno prima dei detergenti di rinfrescarmi proprio la faccia con qualcosa di bello fresco potrebbe anche essere un'idea visto che adesso sta arrivando il caldo da quello che hanno detto a parte questa settimana che qui ha piovuto come non so che cosa ma potrebbe anche essere un'idea magari metterla in frigor e poi passarci un batufolo di acqua micellare bello fresco in modo che così ci dia una una bella sferzata di energia ci risvegli un po' la mattina mezza sonnate e poi questo profumo è veramente inebriante cioè lo sapete che per me i profumi sono importantissimi e il profumo di agrumi e comunque di fiori è un mix meraviglioso che mi aiuta a svegliarmi mi aiuta a diciamo cominciare la giornata nel verso giusto quindi io per prima cosa mi passo un batufolo di acqua micellare sul viso sugli occhi questa non brucia assolutamente su di me è fantastica e poi la vado a risciacquare con un panno molto veloce secondo passaggio che faccio è quello di utilizzare questo detergente che per me è stata una scoperta dove ho trovato questo detergente ormai Altigota mi conoscono quando vedo che arrivo che arrivo alla cassa con 3000 prodotti della skin care giustamente cosa vuoi che ti offrano in un'offerta allora questo a prezzo pieno Altigota costava 19,50 19,90 io l'ho comprato a 9 euro tra 4 settimane fa che era un'offerta alla cassa ma l'ho trovato online anche a 6,60 euro poi dopo vi metto comunque nell'info box tutti i link dei prodotti dove li ho comprati e al prezzo più conveniente insomma io questo detergente lo adoro è meraviglioso meraviglioso allora molto molto denso come potete vedere vedete si vede è densissimo ne basta uno zic voi mettete qualche goccio d'acqua sulla mano e vi crea una schiuma densa corposa che profuma di agrumi che vi dà una carica di energia meravigliosa e per me è veramente veramente fantastico adesso vi leggo un po' le proprietà io me le sono scritte non sono mai stata brava a scuola di imparare le cose a memoria però appunto andando a ricercare qualche informazione preferisco leggervi quello che trovo sui siti dei produttori per non sbagliare o per dirvi delle castronerie allora è un gel detergente formulato per donare alla pelle una luminosità istantanea verissimo cioè dopo che voi avete usato la combo di questi due prodotti la vostra pelle è luminosa ma è anche schiarita almeno la mia è sicuramente molto molto più schiarita deterge e toglie le impurità lascia la pelle liscia e fresca già dopo il primo utilizzo verissimo io mi ci ritrovo tantissimo un detergente dal delicato profumo di agrumi vero che contiene all'interno degli ingredienti illuminanti la vitamina c rock che è un brevetto di rock i potenti estratti della frutta e l'acido glicolico la formula è in grado di liberare la pelle dalle impurità e di lasciarla immediatamente luminosa e morbida dopo che voi vi siete detersi comunque la pelle non vi tira la sentite non tirata molto più compatta cioè molto più quasi liftata non so come dire non so se il termine è giusto comunque proprio bella tirata ma non perché è secca bella liftata bella mi piace tantissimo cioè io veramente lo sto usando e guardate lo sto usando veramente da tre settimane questo soltanto la mattina ma ne si usa pochissimo fa una schiuma meravigliosa e ha questo profumo inebriante che davvero mi cambia mi cambia la giornata benissimo dopo il mio il mio detergente vado ad applicare un tonico boom per me questo è uno spettacolo allora io non so non è che io provo tantissimi prodotti ma tutti quelli che sto provando sulla mia pelle sono miracolosi vuol dire che proprio la mia pelle prima era un cesso vivente e adesso con tutto quello che faccio tutto va sicuramente molto meglio comunque ragazzi questo è un tonico a mio avviso meraviglioso c'è chi ho sentito qualche recensione non ricordo se era marina o qualcun altro che aveva detto che utilizzandolo tutti i giorni per lei era un po' troppo perché c'era un'esfogliazione un po' troppo forte ecco io lo uso tutte le mattine e devo dire che io non ho avuto questo problema ed è proprio quello che vi dico c'è probabilmente proprio questione di pelle c'è chi ha la pelle comunque grassa che ha bisogno di essere sfogliata ma che ha bisogno di un'esfogliazione delicata e più diradata nella settimana io lo uso tutte le mattine non lo uso neanche sul batufolo perché sennò lo spreco e non lo voglio sprecare guardate è proprio liquido mamma mia ha un profumo non ha un profumo soltanto di agrumi mamma è veramente spettacolare c'è il melograno l'uva e si sente estratti di bacche di goji 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 bacche di goji contiene un mix di attivi a base di vitamina C stabilizzata acido mandelico acido latto bionico e acido ferulico dalle proprietà esfolianti e io l'ho notato l'ho notato veramente cioè questo secondo me è un ottimo tonico esfoliante schiarenti e purificanti l'urea aiuta a mantenere l'idratazione cutanea e gli estratti vegetali di bacche di goji melograno e uvorsina dall'azione antiossidante arricchito con un complesso illuminante ricavato dai fiori di verbasco che arricchisce il viso di nuova luce proteggendolo dallo stress ossidativo adatto a tutti i tipi di pelle ideale nel trattamento per l'uso quotidiano io devo dire che mi sto trovando veramente 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 bene per me è ottimo posso però capire che siccome ci sono veramente tanti acidi esfolianti potrebbe essere che a qualcuno risulti un po' troppo aggressivo quindi se lo volete provare magari fate proprio un'introduzione molto molto graduale cioè magari lo provate due volte a settimana poi tre volte a settimana poi se capite capite subito se la pelle comincia ad irritarsi ad essere troppo sensibile perché io lo capisco subito per esempio qua nelle pieghe delle guanciotte e qui proprio magari proprio sotto cioè non lo metto sugli occhi però proprio sotto dove appoggiano gli occhiali ecco e si capisce subito se una cosa ci dà ci dà fastidio bene poi io dopo il tonico che cosa faccio applico una essence che non è alla vitamina C ma lo sapete che io senza la essence non riesco a stare poi vado con alcune tipologie di serie questo ragazzi questo è fantastico combo meravigliosa allora innanzitutto il profumo perché è un profumo paradisiaco ci sono gli stessi ingredienti gli stessi stratti ed è veramente fantastico cioè è un piacere averlo sulla pelle poi a me che piacciono i profumi lo sapete cioè per me più profuma meglio è senza essere troppo invadente però il profumo si sente e per me è bellissimo allora Radiance Face Serum è un siero viso dalla texture leggera e di facile assorbimento verissimo è un siero in gel però molto molto leggero e morbido adesso ve lo faccio vedere vediamo eccolo vedete è un siero veramente molto molto morbido si assorbe mamma mia che buono velocissimamente la vedete la luminosità io la vedo cioè risulta veramente veramente luminosa rimane morbido cioè lascia la pelle morbida e anche questo aiuta a disfogliare dolcemente l'epidermide e per quello che vi dicevo che se li abbinate insieme prima provate vedete com'è la reazione della vostra della vostra pelle è a base di vitamina c ad alta concentrazione stabilizzata acido mandelico acido lato bionico e acido ferulico sono gli stessi ingredienti che ci sono nel toner e illumina il colorito e io effettivamente me ne sono proprio accorta perché il mio colorito è completamente cambiato aiuta a ridurre l'invecchiamento della pelle o comunque a prevenire le discromie cutanee vengono comunque diminuite i seni di espressione l'eccesso di sebo e io con tutti questi ingredienti alla vitamina c mi sono accorta che comunque nonostante il caldo nonostante le temperature nonostante la mia pelle faccia le vizze sicuramente la mia produzione di sebo è molto molto diminuita e tenete conto che io adesso non uso più il fondotinta sto usando delle BB cream o alcune volte soltanto la cipria e basta e se l'avessi usato prima avreste visto Heidi piuttosto che la Elena ci sarebbe usata Heidi qua con i pomelloni rossi perché non potevo non mettere nulla sulla pelle perché facevo anche un po' ridicole insomma e quindi niente il 10% di soluzione di vitamina c è in succo di aloe vera biologica questo secondo me è un vero portento io lo utilizzo tutte le mattine e a volte lo questo sta finendo praticamente io mi sto trovando bene anche con questo questo ha una concentrazione molto molto più bassa il 3,5% di vitamina c e ha l'anniacinamide che era quello che vi dicevo che vi dicevo prima se lo trovate già formulato insieme va benissimo e ha l'acido salicilico ecco questi sono già stati formulati e quindi voi li potete tranquillamente utilizzare io diciamo che due volte a settimana uso questo e il resto della settimana uso questo e mi sto trovando veramente veramente benissimo poi sto ho finito la crema viso ho introdotto la crema viso che vi dicevo l'altro giorno di biofficina toscana alla malva e mi sto trovando benissimo però sono solo due giorni che la sto utilizzando diciamo che mi trovo benissimo come texture si assorbe rimane la pelle morbidissima ma nel frattempo sto utilizzando questi due come sostitutivi delle creme quelle classiche da giorno quindi questo che è il siero in crema illuminante e antimacchie quindi a volte dopo questo metto questo oppure questo e questo questo mi piace tantissimo perché diciamo sostituisce tranquillamente la crema e dopo questa applicazione io vado a mettere la protezione solare ecco ovviamente della protezione solare parliamo dopo ma non perché è quella meno importante è la più importante in tutto questo trattamento alla vitamina C è importante sempre ma soprattutto se utilizzate la vitamina C ma non perché altrimenti la pelle si rovina perché la crema solare aumenta l'efficacia cioè lavorano in sinergia quindi insieme vitamina C e crema solare sono un portento per la protezione all'invecchiamento per la protezione contro i raggi solari sia quelli più gli UVB che gli UVA sapete benissimo che ci sono adesso io non ricordo più se sono gli UVB che sono quelli più leggeri che ci sono anche quando ci sono le nuvole mentre ecco questo non me lo ricordo non me lo sono segnato e non vorrei dirvi una stupidata comunque c'è questa differenza ci sono i raggi che sono quelli più leggeri che però colpiscono la la nostra pelle nonostante ci siano le nuvole o magari a noi non sembra che ci sia il sole poi ci sono invece gli altri raggi solari che sono molto forti quando il sole è veramente molto molto caldo che comunque ci scottano ci irritano la pelle fanno venire le bolle e tutte queste cose e sicuramente con una buona protezione solare tutto questo non succede ma ritorniamo a noi vi stavo dicendo io utilizzo al posto adesso della crema viso questo ed è per me buonissimo ah non vi ho fatto vedere il gel adesso ve lo faccio vedere allora questa è una crema che track si assorbe subito ma la sua texture è vellutata vabbè a parte il profumo che secondo me i profumi di Garnier veramente sono spettacolari a questo profumo si di vitamina ma mi sembra di sentire i fiori del quel fiore bianco del gelsomino insomma è uno spettacolo questa rimane veramente molto morbida molto 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 morbida vi faccio vedere intanto la texture del vedete ah si ma forse ve l'ho fatto vedere che era illuminante sono stupida vabbè ve lo faccio rivedere un'altra volta la mia mano sarà super luminosa ok si si che vi ho detto che era illuminante vabbè ragazzi che ci volete fa non importa la diretta è così e va bene anche questo oppure ho iniziato ad utilizzare adesso ho tutte le mani belle morbide ho iniziato a utilizzare questo boom booster vitamin boom face serum no è un siero che viene descritto proprio dall'azienda produttrice come un un siero da applicare proprio prima del fondotinta o comunque del make up e io francamente a volte l'ho sostituito addirittura alla crema allora vedete comunque è abbastanza corposo ha questo color arancione anche questo devo dire mamma che buono mamma mia che viene da vecchia vabbè ok questo ha una texture che si assorbe veramente velocissimamente cioè non sentite assolutamente qua sentite la morbidezza e diciamo la texture vellutata anche se non è unta però la sentite vellutata qui si assorbe subito non c'è più e quindi io alterno questi due alla crema giorno in questi giorni che fa particolarmente caldo poi come ultimo step sia che io voglio truccarmi sia che mi voglio truccare poco sia che non mi voglio truccare per niente sto utilizzando questa crema viso questa crema viso è stata questa crema scusate solare protezione solare è stata il mio primo acquisto da quando ho iniziato un po' questo percorso giocoso e siniserio della della cosmesi commerciale di comprare i prodotti e l'avevo comprato su un sito spagnolo che in questo momento non ricordo il nome vabbè dopo ve lo scrivo come sempre io in ogni video non mi ricordo le cose questa l'avevo scelta perché le recensioni che c'erano sul sito la davano come una crema corposa ma non pesante e opacizzante adatta a chi aveva la pelle misto grassa e infatti vabbè mi pare che ci sia anche scritto è scritto in spagnolo quindi va bene comunque mi ricordo perfettamente che era adatta proprio opacizzante adatta alla pelle misto grassa ed effettivamente è vero io mi sto trovando benissimo è abbastanza corposa ma non è pesante come vedete trac è assorbita cioè è spalmata si assorbe e l'effetto che voi avete prima di mettere il fondotinta è proprio un effetto molto molto asciutto molto matt mi piace tantissimo ed è perfetta come come base come base trucco io questa la sto utilizzando praticamente da quattro mesi ma non finisce mai nel senso che vabbè ok ne metto ma non è che ne metto una quantità esorbitante e di altre creme ne ho comprate altre due ma volevo aspettare di arrivare come sempre almeno metà di questa e poi ci sono delle creme coreane di cui vorrei parlarvi ma sto provando e quindi poi vi saprò dire questa va sempre messa tutto l'anno io faccio parte di quella categoria della ragazza degli anni settanta che ha preso il sole spalmandosi la birra sulla pelle ha preso il sole spalmandosi l'olio di cocco senza protezione sulla pelle si metteva le fialette della arval che erano già marroni per conto loro senza che tutti avbronzassi sì faccio parte di quella categoria fino a quando mi sono sposata e ho avuto i figli poi il sole ha cominciato a darmi fastidio e io dico per fortuna perché mi faceva venire mal di testa anche quando sono al mare io adesso sono tantissimi anni che non vado al mare a me il mare non piace tantissimo mi piacciono le città di mare mi piace visitare le città di mare il sud per tutto quello che è lo spettacolo della natura per l'arte ma il mare non mi piace tantissimo preferisco la montagna proprio anche perché c'è questo caldo che mi dà veramente tanto fastidio però ho cominciato subito a utilizzare la protezione 50 perché si sa che i raggi solari sono dannosi possono poi provocare dei tumori alla pelle possono creare delle dermatiti possono creare delle allergie e alla mia età francamente non mi interessa più essere essere abbronzata non posso neanche diventare come una pelle di porcellana coreana però quantomeno avere una protezione che sia una protezione valida e io devo dire che proprio con la protezione alta solare 50 e uscendo con questo caldo e con questo sole la mia pelle comunque non si arrossa più se si colora in maniera delicata perché comunque un po' di colore sotto se stai fuori in giardino così lo prendi e io per mia esperienza la metto comunque sempre anche sulle mani e fino a metà braccio perché quando guido le mani sono le cose che sono più esposte e non ricordo più chi l'avesse detto se era un personaggio famoso o se era un personaggio televisivo che dalle mani si vede la nostra età ecco quindi sicuramente le mani riportano le macchie riportano la pelle che comincia a diventare più disidratata cioè se io ho in mente le mani della mia mamma che certo ha fatto dei lavori completamente diversi dai miei non ha fatto l'impiegata per 34 anni ma ha sempre lavato per parecchi anni fino a quando non c'era le lavatrici i panni a mano i panni alla fontana non si è mai curata della del suo del suo corpo della sua bellezza insomma proprio perché non c'era questo culto del prendersi cura di se stessi no lei mi prende in giro adesso quando io faccio questi video quando compro questi prodotti però io capisco davvero che lei non si è presa cura di se stessa sia per i 18 anni quando il papà è rimasto paralizzato e lei praticamente ha l'ha veramente servito da in tutto e per tutto perché lui aveva bisogno di di essere accudito ecco non servito accudito perché servito è una brutta parola aveva bisogno di essere accudito ma anche adesso è una cosa che va contro un po' la sua mentalità no il prendermi cura di me il mettermi una crema sembra che stia facendo chissà qualche cosa di male sembra che stia perdendo tempo perché non sono attenta alla casa ai mestieri a lavare a stirare ma mi sto prendendo cura di me stessa e quindi mi rendo conto effettivamente che da quando io ho cominciato a prendermi cura di me stessa sto meglio a livello di di umore sto meglio a livello di psiche ma sta meglio anche la mia pelle e sta meglio anche il mio corpo insomma pian pianino poi certo i miracoli non avvengono non avvengono in un giorno solo c'è dietro un cammino che se viene fatto ovviamente partendo da qua e quello è il posto più difficile comunque è nulla ho fatto tutto stesso discorso non mi ricordo neanche più fa niente voi mi avete seguito io ho chiacchierato ma finiamo perché non ho finito con i prodotti non ho finito con i prodotti perché questo è tutto quello che io ho inserito nella mattina ma poi alla sera a volte faccio per esempio una maschera alla vitamina C questa è una maschera di Sephora io vi giuro che l'ho usata almeno una decina di volte ma qui sembra che i prodotti non finiscano mai la uso con un pennello me la applico su una faccia la faccia detersa e la lascio in posa un dieci minuti un quarto d'ora alcune volte anche venti minuti ogni tanto ci spruzzo un po' di acqua termale in modo che non secchi ma è abbastanza umida e anche questo ha un potere illuminante e schiarente ha un profumo di pompelmo abbastanza medicinale mi viene in mente l'odore di un medicinale ma quando lo applicate poi sulla pelle non lo sentite non ha un buonissimo profumo però mi sono mi sono trovata mi sono trovata bene perché mi lascia la pelle morbida mi lascia la pelle illuminata e schiarita poi veramente il costo era mi pare al di sotto dei 5 euro se non ricordo male quindi va bene insomma di sicuro non la ricomprerò quando la finisco ma ora che la finisco però sto usando questa e poi sto usando questa che fa sempre parte della linea del giusto del toner e del siero e io mi sto trovando benissimo è una una maschera con dei microgranuli di nocciole e mandorle all'interno poi ci sono gli estratti di mango papaya e ananas dalle proprietà antiossidanti esfolianti anti-aging è una semplicissima maschera scrub come vedete di questo bel colore arancione che vira al nocciola la mettete sulla faccia pulita la spalmate la lasciate in posa una decina di minuti e poi dopo la risciacquate adesso ho tutte le mani al profumo di papaya va bene all'interno c'è anche l'argilla oro che ha le proprietà detossinanti e rimuove le impurità aiuta a diminuire l'eccesso di sebo e poi c'è il burro di karité che comunque permette a questa maschera di lasciarvi la pelle effettivamente morbida dopo che avrete risciacquato ed è infatti così questi prodotti di questa azienda mi stanno piacendo veramente tantissimo e proverò adesso anche altre altre referenze perché mi piace veramente tanto è un'azienda italiana se non ricordo male sì non vedo dove non si vede niente da questa vediamo eh Valverde sì riesco a vedere Valverde CT Catania è giusto mi ricordo mamma mia che profumo che buonissimo e niente io questi ve li consiglio proprio perché mi ci sto trovando veramente veramente bene poi per ritornare al discorso di prima sui sieri con gli attivi gli acidi vitamina C come combinarli e come non combinarli se voi andate sul io questi li ho comprati di Nakomi li ho comprati sul sito di Nuvole Blu di Elisa di cui vi parlo spesso perché perché mi piace e trovate anche un'interessante tabella dove si possono vedere come abbinare i vari sieri i vari acidi quali vitamine usare quali non vanno bene e io me la sono stampata ho fatto uno screenshot me la sono stampata e me la tengo così da usufruire da utilizzare per capire un po' bene soprattutto perché non sono del mestiere poi magari io le cose me le dimentico in questo siero che è buonissimo e io lo sto utilizzando solo alla sera c'è una combinazione di niacinamide 20% azeloglicine al 7% la vitamina C l'ascorbil glucoside e l'alfarbutin al 2% questo questo adesso ve lo vado eccolo qua è un siero antimacchia formulato per pelli con iperpigmentazione ad azione intensa io non ho un'iperpigmentazione però ho delle discromie causate un po' dalla dai dai rossori della pelle insomma la composizione del 20% di niacinamide riduce la produzione di melanina nella pelle illumina intensamente le discromie dovute al sole e all'acne ha un forte effetto schiarente antinfiammatorio leviga la struttura dell'epidermide arricchito con 4 forme di acido ialuronico di varie dimensioni e proprietà fornisce un effetto intensificato di massima idratazione multilivello rende la pelle profondamente idratata dallo strato corneo al derma l'estratto di lievito idrolizzato e i glicosaminoglicani sono responsabili del mantenimento dell'acqua nell'epidermine prevenendo così la sua eccessiva essicazione io cioè ideale per pelli secche la mia non è una pelle secca ideale per pelli disidratate sì perché con tutti i problemi legati alla menopausa la mia pelle comunque ha bisogno di idratazione e a volte è disidratata ideale per pelli sensibili sì e per pelli mature voilà quindi io con questo mi sto trovando veramente veramente benissimo è vedete geloso molto 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 ricco e corposo allora la sensazione quando lo mettete sulla pelle è come se vi facesse uno strato di gel quasi appiccicoso all'inizio dopo una decina di minuti io lo lascio proprio agire così nulla cioè l'effetto appiccicoso non c'è più ma sentite l'effetto idratante molto idratante veramente per me questo siero è veramente stupendo con cosa concludo concludo sempre con Nakomi che mi sta piacendo tantissimo veramente tantissimo con questa meraviglia io la utilizzo sia come crema notturna ma anche come come maschera su consiglio di della mia amica Simo Beauty Passion l'avevo vista da lei lei aveva detto che la utilizzava soprattutto come maschera io ho provato sia come maschera cioè ne applico uno strato abbondante e lo lascio agire una mezz'oretta e poi lo risciacquo oppure ne una maschera diciamo crema maschera notte ne metto una è spettacolare guardate che meraviglia è proprio un soufflé come quando montate e ha questa texture vellutata cioè è velluto sulla pelle velluto è liscissima poi ha questo profumo io ci sento l'albicocca e cioè per me è meravigliosa mi sto trovando benissimo io nonostante abbia la pelle mista grassa amo le texture corpose sul viso mi piacciono proprio tanto soprattutto alla sera di giorno cerco qualcosa che sia più più leggero e meno fastidioso perché questo non mi dà fastidio mi piace proprio sentire che è corposo e dopo quella mezzoletta che io l'ho applicata che magari sono giù sto guardando i vostri video oppure leggo un libro così mi tocco la pelle la mia pelle non è né grassa né unta cioè è nutrita che è un'altra sensazione la pelle nutrita non è la pelle unta la pelle grassa è proprio quella quella pelle sentite che ha un tono corposo cioè un tono pieno e a me questi prodotti questo qua è questo è favoloso è veramente favoloso e vi dico allora souffli souffli souffle viso illuminante Nakomi energizzante tropical energetic tropical souffle allora souffle viso illuminante ed energizzante grazie ai principi attivi esotici che contiene idraterà e improvondirà in profondità adesso cominciamo e nutrirà la pelle renderà la pelle grigia e stanca nuovamente morbida luminosa e vellutata vellutata ve lo giuro cioè è velluto l'estratto di fiori di banano fornisce alla pelle una ricchezza di vitamine e sostanze nutritive lenisce le irritazioni e accelera la guarigione delle ferite l'estratto di kumquat kumquat sì giusto rallenta il processo di invecchiamento della pelle e l'acqua di cocco la nutre in profondità e pulisce i pori regala una pelle levigata e radiosa idratante ed antimacchia azione schiarente indicato per pelli spente e grigie crema anti-age naturale al 99% perché questi prodotti di Nakomi sono comunque con un'alta percentuale di ingredienti naturali io mi sto veramente trovando benissimo con questi prodotti la mia pelle come vi dicevo prima è cambiata più luminosa più illuminata sì luminosa e illuminata è la stessa roba più schiarita hanno un effetto schiarente più levigata e con meno produzione di sebo ecco queste sono tutte le caratteristiche che io ho visto utilizzando questi prodotti che sono principalmente tutti low cost possiamo dirlo sì penso che di tutti questi prodotti non ci sia nulla che supera i 10 euro sia perché li ho trovati in sconto ma comunque forse questi non scontati costavano 10-11 euro e forse anche questo ma ci sono sempre in giro degli ottimi sconti e li trovate tranquillamente a dei prezzi abbordabilissimi tenete conto che poi se voi utilizzate 3-4 sieri cioè vi durano fino a settembre insomma non è che e non potevo poi citarvi durante la settimana ovviamente le mie fantastiche mascherine di Garnier ho questa oppure questa queste due le ho già provate ma ho trovato anche questa della Geomar che non ho ancora provato con vitamina C zenzero e curcuma questa mi sembra interessante e nulla ragazzi spero di non essere stata troppo confusa io vi ho raccontato alla mia maniera come la mia skin care vi ho raccontato i prodotti vi ho raccontato cosa fanno su di me mi scuso se sono stata confusa come al solito perché io cerco sempre di prepararmi non vengo così stampo me lo leggo ma poi magari un po' l'agitazione l'emozione quindi comunque io vi metto i link di tutti i prodotti così voi potete andare tranquillamente a guardare quali sono le proprietà e l'efficacia sulla pelle se possono fare al caso vostro e nulla io vi saluto probabilmente ci rivedremo la settimana prossima perché poi adesso faremo un bel ponte lungo e vediamo se riusciamo a fare qualcosa ma tutto sta dal risultato del tampone di Paolo per vedere se poi è diventato negativo comunque l'importante è che stia bene che stiamo tutti bene e nulla ci divertiamo con tutto quello che abbiamo qua bene io vi ringrazio vi saluto e vi aspetto nei prossimi video grazie mille e a presto buona giornata e buon pomeriggio ciao ciao